Musica Benvenuti alla resegna stampa di giovedì 22 settembre 2016 Siamo in diretta alle 7.30 del mattino sul canale 17 per sfogliare i giornali Lo faremo tra poco Adesso cominciamo con ordine e abbiamo già il libro dei Santi sotto mano Per dirvi che oggi la Chiesa Cattolica ricorda, festeggia Sant'Ignazio da Sant'Ia Provincia di Vercelli del 1686 Il sole sorto alle 6.55 e tramonterà alle 19.06 Andiamo a vedere subito le previsioni del tempo per la giornata di oggi e per i prossimi due giorni Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti residui in mattinata nel settore meridionale della regione Le temperature sono in diminuzione le minime, stazionari oppure in lieve aumento quelle massime Il fine settimana sabato 24 settembre cielo irregolarmente nuvoloso per transito di nuvole medio-alte Le temperature sono in lieve aumento Che cosa prevede? Qual è la tendenza per i prossimi giorni? Avremo tempo stabile nel fine settimana Il probabile transito invece di una saccatura sull'area balcanica per la giornata di giovedì Non dovrebbe comunque portare a fenomeni significativi Seguirà comunque un periodo di tempo stabile e soleggiato Queste sono dunque le previsioni a cura della protezione civile delle marche E adesso apriamo i giornali Il Corriere Adriatico danno fuoco ad una Mercedes nella notte nel mirino un imprenditore della nautica Il rogo in via Soncino ha rischiato di estendersi anche ad altre vetture Si è temuto che l'auto potesse esplodere I pericoli sventati dai vigili del fuoco chiamati da un testimone Due sono stati i punti d'innesco Le indagini sono condotte dal commissariato che verifica lo scenario dell'intimidazione o quello della ritorsione Ancora dal Corriere La pagina principale Andiamo a vedere la pagina principale Perché c'è un richiamo importante Tra l'altro già dato ieri sulla Carifano Il tramonto di Carifano per un pugno di milioni Addio allo storico marchio del credito In retroscena della decisione di Creval Per una manciata di milioni La Cassa degli Spalmio di Fano Scrive Lorenzo Furlani sul giornale questa mattina Conclude la propria storia iniziata nel 1843 La banca fanese che conta quasi 300 dipendenti Ed è presente nelle Marche in Umbria con 40 sportelli È destinata a distinguersi attraverso la fusione per incorporazione Nell'azienda da capogruppo Creval E su questa notizia il Corriere questa mattina dedica due pagine Quella a pagina 2 e a pagina 3 Eccola qua Carifano una storia di 173 anni liquidata per un pugno di milioni L'altra pagina invece è qua con la foto di Francesco Giacobbi Che guida il consiglio di amministrazione Che con la fusione sarà azzerato È già stato nominato vicepresidente di Fondazione Creval La nuova dirigenza interagisca però con la città L'opposizione imputa alla giunta la responsabilità della scelta non negoziata Qui vedete il vice sindaco di Fano Stefano Marcheggiani Sotto il territorio ora è più povero Parla bene comune che dice un altro tassello di coesione sociale Che viene a mancare E adesso l'altra pagina di Fano Quella che viene dedicata al trasporto degli studenti Il caos scuolabus L'appalto può essere revocato Ma il caos è colpa della giunta Udc e progetto Fano incalzano il sindaco rimasto in silenzio Dica che cosa vuole fare Secondo le minoranze in base al bando Il comune doveva verificare i requisiti tecnici E sulla pagina 41 invece presi con le mani nel sacco dei rifiuti Toleranza zero per chi viola le regole Stiamo parlando della raccolta differenziata Sono state elevate 85 multe fino a 300 euro Contro chi smaltisce irregolarmente Quelli che vengono definiti appunto i furbetti Ma che poi tanto furbetti non sono incastrati dalla videosorveglianza Si rischia anche una denuncia penale L'altra pagina è per una ragazza di 17 anni Si chiama Chiara Mancini La vedete in questa fotografia È stata eletta la più bella d'Italia E per lei contano onestà e semplicità Voglio laurearmi ma amo la moda Ha sbaragliato le 102 concorrenti alla finale nazionale di Scalea Che testava anche i talenti Questa è la notizia Poi c'è anche il richiamo a questa festa floreale in piazza stile anni 60 Sul palco Carta Carbone I DJ delle radio anche di una volta Esercenti con aperitivi e menù Un appuntamento per sabato Che è stato presentato ieri dai fratelli Filippo e Daniele Carboni Alla stampa Corrifano La carica dei 400 Trionfa anche la solidarietà Tanti partecipanti al tradizionale evento Raccolti fondi per le vittime del terremoto La Valle del Cesano Il chiosco della Discordia Andiamo a Marotta Dove un chiosco di 100 metri quadrati In un'area verde sul lungomare di Ponte Sasso Sta facendo arrabbiare più di una persona Gli abitanti di Ponte Sasso Gara a settembre La zona potrebbe essere stravolta Un bando fatto quasi di nascosto Ma chi si aggiudicherà la gestione Dovrà poi occuparsi anche degli spazi verdi E sul passaggio a livello Sempre a Marotta I Cinque Stelle preparano le barricate Emili e Berluti Chiedono a che punto siano i progetti E sono contrari alla chiusura Voragine di Orciano Siamo a Orciano di Pesaro La voragine è quella in questa fotografia Il dibattito s'allarga Tutti i pressing sulla provincia di Pesaro Assemblea appena lente Avrà presentato il progetto Che sblocca Regione E fondi Marche Multiservizi Ha pronti finanziamenti Per avviare il cantiere E quindi la ricostruzione Di questa importante arteria stradale Ma manca la determina Ancora dal Corriere Adriatico La pagina di Senigallia Figlio mio che vergogna A scuola È una notizia Ed è lo sfogo Di un papà Contro l'obbligo Di mettere nello zaino In mezzo ai libri Anche la carta igienica Perché non succede anche in comune Si domanda a questo papà Non credo che il sindaco Si porti da casa Penne e sapone Non fa una piega Il padre è deluso Segno che lo Stato ha fallito Potevano fare a meno Di sperperare E sotto invece Si aggravano le condizioni Di un ragazzo di 23 anni In proniosi riservata A causa di un'emorragia Si complica per lui purtroppo La faccenda Nel senso che si aggrava Dopo 13 giorni Da quel 8 settembre In cui ha avuto Questo incidente stradale Questo ragazzo di 23 anni Era in sella La sua moto Quando si è scontrato Con un'auto Che gli ha tagliato la strada In via Raffaello Sanzio Queste sono le notizie Più importanti Tra le tante pagine Del Corriere Adriatico Adesso apriamo il resto del Carlino In apertura Migranti puliscono La spiaggia libera Almeno 40 rifugiati Impegnati per un paio d'ore Sottomonte Nell'ambito di Puliamo il mondo Operazione simpatia Con Lega Ambiente Aiuto Mio figlio Mi ha picchiata Anziana muore Scatta l'indagine Giallo a Fiorenzuola La donna telefona Il 112 Per un malore Dopo il presunto litigio E poi sotto Danno fuoco All'auto Di un imprenditore In fiamme La Mercedes Di un industriale Della nautica Uomo in fuga Si parla di questo Uomo in fuga Allora apriamo la pagina Di Fano Del resto Del Carlino Eccola qua Carbone Intanto Questo incendio È avvenuto A Sant'Orso Intorno alle 2 Di ieri Quando poi È chiamata È partita La chiamata I vigili Del fuoco Che segnalava Appunto Questa Mercedes Classe B Avviluppata Dalle fiamme Dicevo Tutto Iniziato Intorno alle 2 Dai primi Rilievi Anche dalle prime Testimonianze Appunto Le cause Non sarebbero Non parrebbero Accidentali E Insomma Questa è la Sono le immagini Le fotografie Di quello Che è avvenuto Poi pasticcio Scuolabus Da oggi In funzione Nuovi mezzi L'annuncio Dall'assessore Mascarin Miglioreremo I tempi Di percorrenza Ma l'opposizione Non perdona A breve Inizierà anche Il servizio Per le scuole materne E si domanda Progetto Fano Eudici Che cosa avete Intenzione Di fare Rivolgendosi Chiaramente Al comune Santa Croce Suona già Il De Profundis Possibile Tappezza La città Di manifesti Tappezza La città Di manifesti Funebri Il PD Ha ucciso Il dibattito Isole ecologiche Terra di nessuno Tanta multa E furbetti Dei rifiuti Dalle sacchettopoli E bidoni Spostati per le auto Ecco tutte Le violazioni La situazione Va migliorando Grazie anche Le telecamere E ad una maggiore Sensibilità Andiamo nella pagina Di Fossombrone Del Carlino L'esenzione Tosap È una presa In giro La minoranza Critica Il sindaco Gabriele Bonci Polemica Per la lettera Che ha inviato Ai cittadini Il caso Delle associazioni Cosa accade Quando si fa Una iniziativa Scopo benefico Si scopre Che si paga Lo stesso E la festa Andiamo Sull'altra pagina Scusate Del Ecco Di Fano Del resto Del Carlino Spunta Un muro Del 400 I piedi Della rocca La scoperta Durante i lavori Per l'uscita Di sicurezza Le ipotesi Degli studiosi I lavori Non si Fermeranno Parte Della struttura Sarà dunque Interrata E questa È la La pagina 16 Che tra l'altro Ospita anche Una notizia Che riguarda Del lisippo In aula A parlare Un reduce Del Ghetti Fare tutto In regola Ha detto Costava troppo Pensate A 95 anni È un reduce Dello sbarco In Normandia E si ricorda Tutto Del D-Day Ma quando si parla Di lisippo La memoria Ahimè Si inceppa È l'articolo Di Elisabetta Rossi Che vi invito a leggere Stamattina Sul resto Del carlino È tutto Grazie Per averci seguito Vi ricordo Stasera Alle 20.30 C'è Il telegiornale Occhio alla notizia Vi aspetto Arrivederci